Un altro oro, il terzo del suo incredibile 2014. Questo, però a differenza degli altri, ha un sapore particolare per l'odore d'anaspera, anzi, vale addirittura due volte di più rispetto ai precedenti. Uno, perché è stato conquistato a livello individuale. Due, perché è stato ottenuto tra le big del tiro con l'arco e non a livello giovanile. Un altro esordio nella nazionale maggiore da incorniciare per la portacolori barlettana della polisportiva Arceri del Sud, che si aggiudica con merito alla prima tappa dello European Grand Prix, conclusasi questa mattina a Sofia, in Bulgaria. L'ore d'anaspera ha battuto nella finale dell'arco olimpico la georgiana Cristine e Seboa con un 6-0, che in pratica non ammette repliche. Il capolavoro della barlettana nel tabellone ad eliminazione diretta era cominciato giovedì, quando ha ottenuto l'accesso all'atto conclusivo, vincendo ben cinque scontri ad eliminazione diretta. La grande impressa l'ha realizzata agli ottavi di finale, sconfiggendo la bielorussa Anna Marushava, la testa di serie numero uno del seeding. Niente podio, invece, nella gara a squadre. Le azzurre sono arrivate quarte e hanno perso la finale per il bronzo contro la bielorussia. L'ore d'anaspera, allenata da Vincenzo Leonetti, fratello di Pia azzurra sia a Pechino 2008 che a Londra 2012, aggiunge così l'oro di Sofia a quelli conquistati a squadre nella categoria juniores, ai mondiali indoor di Nimi in Francia e agli europei all'aperto di Ljubljana in Slovenia, oltre a due vittorie ed un argento a livello nazionale. Quello in corso doveva essere l'anno del definitivo salto di qualità per il momento. Il 2014 di Loredana Spera sta regalando soddisfazioni che vanno oltre ogni più rossa previsione.